Ciao ragazzi, ben ritrovati all'Inter di Football qui a cercare di creare del calcio interstellare per voi Si riparte oggi nuova settimana con il campionato, abbiamo avuto delle notizie in game che ci fanno sperare bene perché giovedì ci dovrebbe essere un bel aggiornamento che dovrebbe portare delle novità Io spero ragazzi, prima cosa su tutto il crossplay, qualcosa che veramente desidero tanto Intanto ragazzi vi faccio dare un'occhiata alla squadra, vi chiederete il perché Perché sono riuscito a beccare questo bel ragazzone Quindi ho preso Bissek, tra l'altro ho farmato l'evento contro le AI per prendere il giro gratis Non sono stato fortunato, poi ho speso 100 minute e l'ho beccato Quindi direi piuttosto fortunato, abbiamo un nuovo Jan Bissek che è decisamente più forte di quello base E si può vedere, più che altro anche perché ha diverse abilità molto interessanti Come difensore, tra l'altro ottime Non una cima a livello difensivo per quanto riguarda il coinvolgimento e quant'altro Però di testa e anche di contatto fisico è decisamente valido Non so se farà effettivamente la differenza Io però spero che si trovi in un ottimo stato di forma Così da poterlo schiarare nella prima partita di questa settimana Abbiamo avuto un leggero stop Non so neanche se chiamarlo stop, visto che è stata la fine un pareggio Quindi comunque è un risultato utile per la nostra scalata Un pareggio per 5-5 dove i difensori hanno fatto veramente ragazzi Un lavoro, non so dirvi veramente cosa sia successo Sembrava una partita, come si suol dire, buggata Non so se ci avete dato un occhio Veramente, veramente inspiegabile In ogni caso, adesso stiamo qui cercando di recuperare Speriamo che non ci siano più problemi di difensori un po' Rigidi Ecco, mettiamola così E speriamo che ti potrei schierare Bissec Intanto, siamo in seconda divisione La scalata verso la prima Procede, spedita Ora che registro è lunedì Ragazzi, all'indomani dal pareggio che l'Inter ha fatto con Napoli Un pareggio deludente per i Nerazzurri Che sono ovviamente responsabili di non aver chiuso la partita Quando hanno potuto Che tra l'altro poi, ragazzi, è lo stesso motivo Per cui siamo fuori dalla Champions League Non chiudere le partite Avere tante occasioni E sul momento dell'1-0 E sul momento del pareggio Ovviamente Porta poi inevitabilmente A essere puniti Da quello che ci piace chiamare il dia del calcio Vediamo il primo avversario di questa settimana È un Magister Con l'Italia, tra l'altro Che è un discorso importante Visto che siamo nella settimana anche delle nazionali Andiamo a dare subito un'occhiata Agli stati di forma dei nostri ragazzi Vedo Holland in Italia Tutti abbastanza bene Vediamo Andiamo a dare un occhio Eh sì Eh sì ragazzi Anche se la difesa sta bene Eh Come faccio a togliere Devo togliere Devo togliere Pavard Devo togliere Pavard Ci mettiamo un bel Bissek Lo proviamo Subito, subito Darmian Meglio di Dunfriss Lo mettiamo Vediamo chi altro c'è in panchina C'è anche Buchenan Non ha giocato così male Mi aspettavo forse un pochino di più Non mi sento di Visto che ho già i difensori Bissek Che devo vedere come mi trovo Preferisco giocare con i titolari Visto che possono Direi Eh qui c'è Holland Poi Maradona Del Piero Neymar Anche Gullit E Costa Curta Quindi Ma è Rijkaard in realtà Sarà una partita bella tosta Andiamo a Fare due cose Prima Andiamo a mettere Bissek in avanti Sui calci d'angolo E poi mettiamo Le marcature Su Del Piero E Maradona Che sono entrambi SP Maradona Premo E Del Piero Poi Questo Se non sbaglio Questo che ha il nostro avversario Dovrebbe essere il miglior Del Piero Disponibile Perché Quello che era nel pacchetto di Milito Un po' più lento Sapete che la velocità Conta tantissimo In questo gioco Il Del Piero invece Quello che vedete Più giovane È velocissimo E ha un gran dribbling Molto meglio A mio avviso Di quello diciamo Più recente E l'Italia A cominciare questo calcio d'inizio L'Italia Parte con Oland sul pallone Non so neanche se c'è un giocatore italiano Forse Costa Curta Il giocatore italiano Parti in avanti Direttamente con Neymar Ma Arriva veramente Incredibilmente Ad anticipare Poi questo passaggio lentissimo Qui Se facciamo questi passaggi lenti Avremo una vita Difficile direi Un po' di difficoltà Poi Bissec Che l'alza Cercare Darmian Primo lancio di Bissec Non è dei migliori L'Inter che parte Comunque un po' ingolfata Lancia in avanti Cercare Oland Riesce Poi di nuovo Devriar ad anticipare Riparte l'Inter Con Mkhitaryan che vede E serve Morkus Turam Qui Secondo me C'era fallo ragazzi Secondo me c'era fallo Valla ancora per C'è una nuova Che a campo C'è nessuno Provato a servire Come avete visto Qui per un attimo Provato ad andare Da Di Marco C'è Bastoni Rischia quasi Di perderla Neymar che sta facendo Un lavoro difensivo Abbastanza Strano Poi Barella Che la riprende Anche perché Era stato superato Bella questa palla Per Ceranoglu Ancora per Dima Che a campo Mettere il cross al centro E qui sul primo palo Qui Miki In realtà fa una torsione Anche molto complicata E riesce a prendere la porta Ovviamente Pretendere di segnare lì Sembrava troppo Bissek recupera Con un buon anticipo In avanti per Turam Che prova l'appoggio Lo sbaglia però Ancora in avanti C'è sempre Oland Ma Che recupero di Miki qui 1-2 perfetto A centrocampo L'Inter che si distende E qui fallaccio però Qui doppio Darmian E' stato doppio Teo Hernandez Su Darmian Anche se secondo me C'era un fallo lì Poi ancora un anticipo Qui l'Inter Poi Rijkaard Veramente Una spina nel fianco Con gli anticipi E poi Devre Che spazza Per evitare problemi C'ha la di testa indietro Per bastoni L'Inter Che prova a giocare con calma Bravo Barella Di primo a cercare Proprio Matteo Darmian Si fa vedere Di nuovo Morkus Turam E' troppo lento Ha fatto quel controllo In più Turam Che l'ha reso Ovviamente leggibile Poi Ciala Ancora in fase difensiva A dare una mano Non so perché Non abbia passato Questa palla Ancora Ciala Va a rimediare A suo errore E poi a lanciare Per Lautaro Lancia un po' impreciso Infatti ci arriva Forse Bastoni Che tra l'altro L'Undico italiano Bissek Che buon anticipo Per Bare Anche se forse Non era per lui Di nuovo Per Turam Che non è in fuorigioco Poi questo passaggio Che è inspiegabile Di nuovo Bastoni a recupero L'Inter Che continua a spingere Che brutto Questo controllo Palla salvata Anche da Bastoni Brutto Dicevo Questo controllo Di Di Marco Poi non ci arriva qui Bare la tensione Del Piero Controllo il pallone In qualche modo In avanti Ancora Bastoni All'anticipo Perfetto Poi Ciala Lascia il pallone Non so perché L'Inter Che prova a scendere Poi ciala Fallaccio però Su Cialanovo C'è il giallo Per Maradona Qui è Di Marco Sul pallone Ma io a questo punto La faccio tirare A Bastoni Perché si trova qui Abbiamo Di Marco Libero per ricevere il pallone Ma soprattutto Cialano Quello che si è avvicinato Eccolo qui Poi Marco e Sturam Ancora 1-2 E qui Non era mai idea Ma secondo me Non c'era lo spazio Per fare questi continui 1-2 Vi dico la verità Andietro perde il Piero Che perde un attimo Poi Barella Non so perché Resta letteralmente Senza pallone Tiro Qui strano Perché poi Sommer L'ha parata Ma Dopo la parata È finita sulla traversa Tiro molto strano Ma pericolosissimo Attenzione adesso Al calcio d'angolo Perché di saltatori L'Italia ne ha molti Alla al centro C'è Michi contro Holland Mamma mia che sfida In Paris Holland riesce a colpire di testa Ma non c'entra la porta Inter Però non sta facendo Diciamo il suo solito Poi dovrei che va Direttamente da Darmian Che ha le praterie Sulla destra No raga Era ovviamente per Marcus Turam Che bravo Bissek Qui all'anticipo Sta comportando decisamente meglio Poi Marcus La tiene Serve Lautaro Di nuovo per Lautaro Che si infila centralmente E qui Fallaccio Tra l'altro Raigard Non sarà stato già munito Lui Eh no Non era già munito Primo giallo Per Raigard L'Inter Aveva fatto Un'imbocata Pazzesca Non ho capito Se Lautaro Deve uscire Oppure no Ci va A Cialanoglu Signori Che punizione Di Cialanoglu L'Inter è in vantaggio Paradossalmente Ragazzi Quando sono più Da lontano Sono meglio Mamma mia Che parabola Di Cialanoglu L'Inter è in vantaggio E qui però Non capisco se Nostro Lauti torna Oppure no Si fa vedere poi Marcus Turam Vieni se è servito Che bello il controllo a seguire Può andare ancora Il francese Dall'altro lato Salva questa curta Qui ha seguito benissimo Questa curta Pala per l'Inter Io sto andando in pausa Perché voglio capire Se devo togliere Il povero Lautaro Che non è tornato ancora Quindi direi che Va tolto Va tolto Ma l'estero avversario Mi sa che non vuole giocare Che io avrei messo Sanchez E si comincia la settimana Con una vittoria Tra virgolette Facile facile Una magia di Cialanoglu Ed è Eh ragazzi Io ne propongo un'altra Non è finito Neanche il primo tempo Era finito Eravamo al trentatresimo Se non erro Quindi si parte col botto Vittoria secca Dopo una magia Di Cialanoglu Sul calcio di punizione Per Portarci in vantaggio Avversario Non ha voluto più giocare Eppure Aveva fatto comunque Il tiro in porta Con Maradona Aveva Anche provato con Holland Sul calcio d'angolo Non mi sembrava Una partita Diciamo decisa Già Abbiamo Bayer Monaco Come secondo avversario Di questo episodio Secondo avversario Della settimana Bisse che comunque Devo dire Si è comportato Aggregiamente Non ho avuto modo Di vederlo sul calcio D'angolo Però Di nuovo Bissec Informissima Io però stavolta Lo metto al posto Di De Vre E lascio in avanti Pavar Ma voglio in avanti Anche Bissec La voglio provare Con il suo metro e 96 Eccolo qua E Chi abbiamo oltre in panchina Che è in forma Quadrado Informissima Che poi in realtà Non gioca mai Carlos Augusto Anche meglio Di Di Marco E quindi lo facciamo giocare Klaassen No Lo lascio lì Vediamo È avversario Super offensivo 4-2-4 Con Eza È da punta Ma poi attacchi Velocissimi Cioè Attaccanti Velocissimi Scusate Salah Neymar Bappen Uncuncu Mica Mica giocatori Della primavera Mi verrebbe da dire Andiamo a mettere Le marcature Su Uncuncu E su Salah Destra e sinistra E ci siamo Bissec Chiamato Alla seconda Da titolare Sto nuovo Bissec Carta molto simpatica Anche la foto Che hanno preso È È giusta È figa Ci sta A me piace molto A me come giocatore Piace molto Bissec Secondo me deve ancora Migliorare un po' Vabbè Alla fine Ricordiamoci sempre che Fino all'anno scorso Giocava nel campionato danese Non so neanche con quanta continuità Ma Più che altro Ricordiamoci che È inesperto Ma deve imparare A usare meglio Il suo fisico Visto nelle palle vaganti Sia nella partita con l'altratico Sia in quella con Napoli Spesso si fa un attimo Beffare Proprio dall'inesperienza Di gestire quelle palle alte Gestire il posizionamento Su Su delle palle Che stanno per Scendere È frutto di inesperienza È un giocatore che Secondo me Ha doti fisiche Ma anche Di poi Propositive In termini di inserimenti In termini di Piede Anche un piede abbastanza Educato Buonasera e benvenuti E Bayern Inter Sarà il Bayern A battere il calcio D'inizio Per Questo secondo Questa seconda partita Di questo episodio Bravo che Poi Barella Ci arriva tardi Un po' in ritardo Pavard Poi la palla al centro Ci arriva Sommer Non volevo fare questo ragazzi Infatti sto spazzando Perché pensavo che quello bianco Fosse il mio giocatore Sbagliato Evidentemente Poi la palla per Thuram Che aggancia bene Bello questo tacco Ancora Ciala L'Inter che si distende Poi Carlos Augusto Che guadagna il fondo La mette al centro Il cross Palla spassata Michi che non aggancia Incredibilmente Dall'altro lato c'è Quadrato Che continua a tenere Viva l'azione dell'Inter Guadagna il fondo Il cross al centro Non ho capito Qui Thuram Si è lasciato colpito Dal pallone Non ha calciato Poi Costa Curta Mette in calcio d'angolo Primo tour de force Cercare Pavar E non riesce Poi con Q contro Mamma mia Vare l'ha spostato letteralmente Poi si è fermato Ma non in tempo Vedete Quando il devasto Di un giocatore Talmente più veloce Del suo avversario Che bella questa combinazione Con Lautaro Che può andare Costa al centro Ma ci arriva Iker Casillas Non ho visto Era lui il portiere Con le mani direttamente A cercare Mbappé C'è Quadrato Che però non riesce A anticiparlo Poi c'ha la Noglou In area per Lautaro che calcia a giro Sulla respinta Thuram Non riesce a calciare Incredibilmente Mamma mia Che brutto Sto buco Lasciato Da Quadrato Può andare Mbappé Murato Da Pavar In maniera Perfetta Poi Zommer Che va direttamente Da Morksturam Mbappoggia A cercare Lautaro Il tacco Per C'è la Noglou Che va di nuovo Da Lautaro Di nuovo 1-2 Poi si poteva fare meglio Secondo me Poi C'ha la Noglou Col destro Palo Clamoroso Di C'ha la Noglou Dai Quadrato Andiamo a prenderci Sta palla E qui In profondità Senza neanche pensarci Doppio in profondità Alla fine la palla Per Inrazzurri Barella che la alza Per Mkhitaryan Tanto spazio per Mkhitaryan Centralmente La tocca E salva tutto Barella A recuperarla Attenzione all'Inter E la alza Per C'ha la Noglou Anticipato però C'è sempre Carlos Augusto Ovviamente è molto scoperto Il Bayern perché È tutto in avanti Carlos Augusto Il cross al centro Sta arrivando Lautaro Sulla respinta C'è pronto Barella Di nuovo per Quadrato In aria per Mkhitaryan Anticipato Da Teo Hernandez E qui ragazzi Fa sempre questo Il nostro avversario Mi sa che stavolta Non ci credo Autogol Qui con Pavara Che aveva bloccato Il passaggio Qui diventa Complicato ragazzi Lui semplicemente Aspetta ovviamente Di mandare in profondità C'ha la giro Ma Casilias Non si fa trovare Preparato Qui io non so A questo punto Se mi conviene Cercare di anticipare I movimenti Qui Il controllo di Bissec È un po' penoso Poi questo lancio Per Quadrato Però è Sbagliatissimo Mamma mia Ragazzi Fermano tutti Mamma mia Poi Di giocate Di difensori Che sono stati Completamente fermi Poi non salta Quei non capisco Perché non salti Marco Sturam Mamma me lo spiegate Magari Bravo Carlos Augusto Allora l'Inter Può scendere con C'è la Noglu Palla al piede Si fa vedere anche Carlos Augusto Che può scendere Palla al piede Di nuovo anche lui Poi C'è la Noglu In mezzo a due Calcio di punizione Io non l'ho capito Vi dico la verità Non ho capito Questo calcio di punizione Non lo avrei dato Se ce lo faceva Rivedere Avremmo potuto capire Mamma mia C'è la che brutto controllo Marco Sturam Sulla linea Salva E c'è il fallo Sulla linea Quei buoni La giocata di Sturam Più che altro C'ha la Noglu Che controlla il pallone A limite dell'aria Si infila Peccato ragazzi Peccato Deva essere Una buona occasione Per in Razzorri Bravo Pavara A buttare via Indietro poi Per il portiere Non ho capito Se sta Sta già Per No ho messo Il tacco totale No Sta già perdendo tempo Penso al nostro avversario Praticamente Michi che prova A infilarsi Che buona Ancora la giocata Di Nientra Non guarda neanche Dove sono i suoi compagni Va direttamente Col passaggio Poi l'erroraccio Attenzione al centro C'è Neymar In chiusura Bastoni Salva tutto Lascia scorrere Fallaccio Con Michi che Bravo su Rotri Andiamo a prendere qui Io veramente non so chi darla Qui poi Michi Prova a girarsi Allarga per Quadrato Non riesce a girare Spinto da Controllato Mettiamola così da Rotri Volevo provare A affondare Sul In area di rigore Non c'è in avanti Vai Bastoni Deve essere per forza tua Dai C'ha l'arrivaci Su quella palla Che è tua Ancora campo per l'Inter Con Bastoni Che può andare Fino in fondo Il cross al centro Sta arrivando Michi Anticipato C'è Barella Per Marco Sturam Si salva qui ancora Il Bayern Che è arrivato In vantaggio Con un gol fortuito Peccato ragazzi Peccato Per preso questo gol Rossagusto che sale Mamma mia Si infila Michi Che chiusura Poi quadrato Grande Recupero Può andare Sulla destra A tutto il tempo Per crossare Con calma Laudì E c'è il gol Dell'Inter Dove l'ha messa Lautaro Di testa Tra palo E portiere Esattamente L'unico posto preciso Mai segnato Un gol Così di testa Ragazzi Non ce l'ha mai riuscito Perché di solito Sbagliano sempre Sbagliano sempre tutto Tinevo per Carlos Agusto Che guadagna il fondo Cross al centro C'è Michi dall'altro lato Anticipato Ancora Barella Che serve C'è la Noglu Bravo Quei Rodri Con questo anticipo Sempre palla allargata Bravissimo Bastoni invece La tiene anche in campo Neymar Fa una grande fase difensiva Bravo Bissek In chiusura C'è la Ancora per Carlos Agusto Controlla malissimo Per stare attenti A questo passaggio All'improvviso Pavar E' attento E spazza via Quadrato qui a vuoto Bissek però E' attentissimo Sommer non rischia E vada Marcus Turam Palla che resta lì C'è ancora Quadrato col pallone Può scendere Palla al piede Sulla destra Buona per Michi In aria Non era per Marcus Turam Ma ovviamente Per Cialanoglu Bravo Pavaro In chiusura L'Inter ancora Bravo Anche ai Michi A servire A servire Quadrato Sulla destra Bambi a Marcus Bambi a Marcus Bambi a Marcus qui Adesso sulla linea Sulla linea Di passaggio Di nuovo Per Quadrato Controlla Il cross al centro C'è l'Audi La palla che resta lì Mamma mia Spazzata ancora Di nuovo Bastoni Al recupero L'Inter che scende Con Carlos Augusto Sulla sinistra Non riesce poi A passarla In tempo Purtroppo Bravo Ancora Invece Barella Michi Italian Ancora Per Carlos Augusto Che guadagna il fondo La metà al centro C'è Marcus Sulla traversa Sulla traversa Marcus Turam Ad un passo L'Inter Dal chiuderla Dopo una rimonta Meritata Per Inrazzurri Pavara Vincere questo contrasto Poi l'Inter Barella A cercare C'è la Noglu Poi Lautaro Per Marcus Turam Di nuovo Per Lautaro Che vede Carlos Augusto Che si infila Guadagna il fondo Il cross al centro C'è Turam solo La palla che resta lì Mamma mia Si salva ancora Il Bayern Quadrato Che gran recupero La tiene anche in campo Poi il numero Ma viene fermato Da un cuncu Ed è rimessa laterale Per l'Inter Ciala che ha tutto il tempo Cross al centro C'è ancora Lauti che stava provando La rovesciata Che Dai quadrato Recuperala Di nuovo per Ciala Di nuovo cross al centro C'è Lauti Fermato Regalo Turam 3 a 1 Che usa La pratica Bayern Marcus Turam Che erroraccio Del Bayern In fase difensiva Eh ragazzi Ma queste sono Le partite più difficili Onestamente per me Quando l'avversario Già semplicemente va Va a passare Il pallone in avanti In profondità Senza neanche pensare E come vedete qui Meno male Bastoni stavolta C'era sulla linea di passaggio Poi Pavard Sommer Che va da Bissek Tutto chiuso Poi Bissek Vede centralmente Mkhitaryan lo serve Sbaglia amiche Questo passaggio Regala il pallone Attenzione perché è libero Bissek Bravissimo A anticipare Deve concedere però Il calcio d'angolo Avrei voluto avere Un calcio d'angolo in più Per provare con Bissek In avanti Per vedere Diciamo che feeling Dava come Sponda Attenzione Mamma mia Palla spazzata Stava per fare Un'altra gol Trocambolesca Come il primo Praticamente Questo Bayern Decisamente In difficoltà Nesta parte finale Palla palla al centro Bastoni A buttare via Non rifare qualche cambio Più che altro Markus Stram È morto Andiamo di Mark Hornaudovic Per mettere in ghiaccio Il pallone Poi Frattesi Anche pronto Per il resto Direi che ci siamo Anzi vi dico Davic Lassen Ecco qua Direi che ci siamo Non credo lui Abbia fatto Cambi Dobbiamo a vedere Sta alzando I due Quelli che aveva come Mediani Li ha messi tre quartisti Per provare il tutto Per tutto Eh ragazzi È stata una partita complicata Non ve lo nascondo Ripeto È sempre difficile Difendere così Il punto è però Una volta che Una volta che Hai il pallone Al servizio fa poco Perché fa fatica a difendere Avendo ovviamente Quattro giocatori Completamente in avanti Quindi Difende con delle unità Con degli uomini in meno Questo è chiaro Anche se poi Dipende sempre Dalla bravura Che il giocatore ha In fase difensiva E non era male Il nostro avversario Se ci pensate Se non fosse stato Per quello il roraccio Qui intanto L'intera che tiene il pallone In realtà ha regalato L'intera che si distende bene Col pallone Ha provato a calciare Ciala Murato E poi palla in avanti Immagino ci sarà Un passaggio in profondità Ecco qua Non capisco Perché Non Non ci va da somber Però Bissek Alla fine Lo togliamo Col super cancel Palla finisce Rimessa al fondo Ci dovrebbe essere poco Diciamo Per cui preoccuparsi Pavar Che va direttamente Da Carlos Augusto Che ha fatto una buona partita Si fa vedere anche Marco Arnautovic Eh Mamma mia E meno male che è fresco Controllo Veramente macchinosissimo Ma non importa Perché l'inter Fa 3 a 1 11 di rapporto In 3 Tra l'altro il gol è arrivato Su deviazione del cross C'è sta Ma L'inter che la rimette in piedi Doppia vittoria in questo episodio Ci portiamo a 1600 punti Molto vicini In realtà Quasi a metà del Viaggio Per arrivare in prima Ragazzi è tutto Per il primo episodio Di questa giornata Fatemi sapere cosa ne pensate Nei commenti Io vi ringrazio Per aver guardato E ci vediamo alla prossima